Che sia la prima volta che succeda, forse al mondo, che dei cittadini eletti mettono dei soldi a disposizione di persone che vogliono realizzare un sogno e hanno bisogno di un po' di soldi per farlo. Noi questo stiamo facendo. Un'impresa al giorno per almeno i prossimi dieci anni. 25.000 euro alle microimprese, alle persone con una partita IVA che vogliono provare a fare qualcosa. Questo questi ragazzi sono riusciti ad ottenere da cittadini semplici. Microcredito5stelle.it è la nostra idea di governo che si associa al concetto di reddito di cittadinanza perché anche quello lo finanzieremo tagliando gli sprechi e si associa all'idea di un paese in cui i soldi non li prendono più sempre gli stessi ma li prendono finalmente cittadini che purtroppo non hanno ipoteche da fare, non hanno niente da mettere a garanzia ma hanno un'idea. Io oggi sto qui proprio per questo, per sentire di cosa si parlava perché io ho una piccola impresa. Lei può per far partire una sua impresa, una sua idea imprenditoriale o per superare un momento di difficoltà andare in banca e chiedere un credito senza dover firmare, cambiare o impegnarsi con un'ipoteca. La garanzia la mettiamo noi. Quello che conta è l'idea. È un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico su cui ci sono 10 milioni di euro di restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle a cui si può accedere attraverso una procedura di evidenza pubblica, una procedura quindi istituzionale sulla quale i parlamentari che hanno restituito le somme non hanno nessun potere di controllo o di condizionamento. Questo paese nel dopoguerra è cresciuto e si è sviluppato grazie all'idea di grandi uomini. Se quei grandi uomini avessero avuto a che fare col sistema bancario di oggi e col sistema statale di oggi, quei grandi imperi che ci rendono orgogliosi nel mondo non sarebbero nati. Ed è questo che vogliamo rimettere in piedi. Grazie a tutti. Oggi, il 4 marzo 2015, finalmente il Senato approva il DL Micillo sui reati ambientali. E abbiamo anche ottenuto tanti risultati. Abbiamo ottenuto di migliorare la definizione del delitto di inquinamento e del delitto di disastro. Abbiamo ottenuto che nel ravvedimento operoso ci sia la clausola che questo può avvenire solo prima che inizi il processo. Ossia, io posso sì avere uno sconto di pena se provvedo, se mi ravvedo e quindi faccio la bonifica, ma solo se non è iniziato prima il processo. Abbiamo anche ottenuto che il provento della confisca sia legato alla bonifica. Ossia, i soldi che io prendo, mi sequestro perché hai fatto il danno, devono finire nella bonifica. Poi in aula siamo riusciti ancora a ottenere il reato di omessa bonifica, che sono decennici, viene chiesto dalla magistratura ed era anche nella relazione pecorella della precedente commissione Ecomafia. Noi siamo estremamente contenti e felici di questo provvedimento, che è una pietra miliare, è un atto di civiltà e quindi facciamo un appello alla Camera affinché adesso questo provvedimento venga approvato così come uscito dal Senato per poter festeggiare tutti insieme l'entrata dei delitti ambientali nel codice penale. Oggi vi presentiamo la nostra proposta di riforma dell'emittenza radio televisiva, quella che comunemente è conosciuta come TV di Stato. Il servizio pubblico televisivo dovrebbe dare formazione, informazione nei confronti dei cittadini e invece molto spesso i partiti hanno utilizzato non solo il servizio pubblico, ma in generale l'informazione come un veicolo talvolta addirittura di propaganda. Forse una delle leggi più importanti per la democrazia di un paese, perché? Perché l'informazione è l'aspetto più importante per un cittadino per poter fare delle scelte e esercitare proprio diritto alla democrazia. Chiaramente ci siamo posti degli obiettivi che sono quelli dell'indipendenza dal potere politico, un nuovo CDA che fosse più agile e autonomo, l'efficienza dell'assetto societario, la qualità della programmazione, l'innovazione nel servizio pubblico e la trasparenza su gestione, nomine e appalti. Come Parlamento possiamo uscire definitivamente da un'epoca. Oggi possiamo voltare pagina. Il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di fare ostruzionismo di nessun tipo, ma ha dialogo al 100%, anche con il partito di maggioranza e il partito democratico, all'interno del Parlamento, all'interno delle commissioni competenti. Però l'obiettivo deve essere chiaro per tutti. Via i partiti dal servizio pubblico e via il governo dal servizio pubblico. Se vogliamo lo stesso obiettivo senza nessun tipo di trucco, il Movimento 5 Stelle c'è. Questo evento è nato da un episodio legato ad una persona che si chiama Silvio Buttiglione, qui seduto tra il pubblico, era un imprenditore abruzzese, che io ho incontrato in una piazza a Monte Silvano e che mi ha spiegato la sua vicenda. È una vicenda che purtroppo accomuna tante persone che hanno fatto impresa in questo paese, che molto spesso per colpa di banche o per colpa di quella che oggi è diventata un'usura di Stato, che è Equitalia, molto spesso si ritrovano in un vicolo cieco. E allora come fa? Io non voglio chiedere le mosse da nessuno. Io voglio ritornare a riprendermi la mia vita e lavorare dignitosamente come ho sempre fatto. Allora non trovo soluzioni, signori parlamentari, io non trovo una soluzione. Allora l'unica soluzione che mi è venuta in mente è di andare a un giudice e dire di trasformare le sanzioni in pena, mandatemi in galera, fatemi passare la galera. Però poi voglio essere libero, libero. Non dovete perseguitarmi a vita perché non è giusto. Io non sono mai stato un evasore, non sono un criminale, sono trattato come un criminale. Allora io voglio pagare, mi trovate una soluzione come faccio a pagare? Io sono stato fortunato che il Signore mi ha salvato la vita, però altri non sono fortunati e quindi non possono raccontarlo oggi. Però non per questo io dico che non mi stancherò mai di lottare contro questo mostro chiamato Equitalia. Ho una certa difficoltà a non emozionarmi davanti a questo disegno. È stato disegnato da un bambino del quartiere Tamburi. Il messaggio è chiaro. Papà, uccidi il mostro. Dici miniere dell'Ilva come un mostro nero che sputa fuoco e fumo. La risposta che voi state dando a questo bambino è quella che il mostro continuerà a vivere e uccidere impunito. Tutti i bambini hanno un mostro immaginario nell'armadio. A Taranto il mostro vero è fuori dalla finestra. Basta una lettura superficiale del decreto per comprendere cosa? Che tutto viene architettato solo per salvaguardare i crediti vantati dalle banche. I tarantini qui non c'entrano niente e i bambini sono stati soltanto una meschina strumentalizzazione perché di fatto quelle prescrizioni non verranno neanche attuate e quelle che verranno attuate serviranno soltanto a far andare avanti questo stabilimento che dà solo morte a Taranto. La fonte inquinante deve essere eliminata. Taranto adesso ha il 43% di disoccupazione nonostante l'Ilva. Il che vuol dire che l'Ilva ha ucciso le opportunità di lavoro di cui Taranto invece era ricca. A Taranto questa riconversione economica si può fare. Si è fatta a Bilbao, una città industriale che ha deciso di rivolgersi verso un'economia culturale. Si è fatto in una regione francese, il Nord Pas de Calais. Quindi si può fare soprattutto e si deve fare a Taranto che invece i tesori ce li ha di natura, ce li ha dalla storia, ce li ha spontaneamente. Si è dimenticato questo, si è dimenticato che cosa era prima, forse perché non ha mai veramente lavorato. Ma quando vi ribellate, io lo sto dicendo a voi senatori, il governo esegue la nostra volontà. Quando è che ci ribelliamo?